Io se non ci sono altri interventi volevo anche dire due parole sulla vicenda perché comunque è evidente che ha delle ripercussioni politiche, amministrative importanti, le quali tutti voi vi siete soffermati. Mi premeva intanto ringraziare Valentina dell'attività svolta nella veste di vice sindaco e di assessore, anche perché io sono uno di quelli che devo ammettere e riconosce, così come è avvenuto per la gran parte delle volte anche di altri amministratori, che Valentina ha dimostrato sempre una disponibilità e un attivismo che credo siano incomiabili e riconosciuti da tutti e io sono tra quelli che te l'ho sempre riconosciuto Valentina. A proposito di questo, il piglio che poi mi pare che sia l'accusa vera che ti viene rivolta, il piglio con cui tu affronti il tuo impegno amministrativo. Tu sai benissimo, anche in questo noi siamo stati sempre tra di noi estremamente sinceri, lo abbiamo fatto sia privatamente che pubblicamente, ce lo siamo sempre detti. Io non sempre sono stato d'accordo e sono d'accordo con certi toni, con certi modi, con certe forme di espressione. Ciò detto però penso che sia inequivocabile l'impegno che tu hai messo nel tuo lavoro e di questo io ti ringrazio e credo che ti possa ringraziare l'intera collettività. Dico anche però che, come sottolineava il consigliere Paratore, secondo me con questa vicenda si appalesa intanto un errore di valutazione politica che tu hai fatto prima della campagna elettorale e questo è evidente. E l'altra conseguenza, diciamo, di natura esclusivamente politica, io assolutamente non parlo di personale né di famiglia né di valutazione sull'uno o sull'altra persona, non è mia abitudine, come sapete. L'altro aspetto politico fondamentale che mi pare sia stato sottolineato un po' da tutti è il fallimento, il fallimento di un'esperienza amministrativa. Ciascuno di noi, e questo chiaramente attiene anche e soprattutto al carattere e alla personalità che abbiamo, di fronte al fallimento si può porre disposizione diversa secondo di come siamo. Io ritengo che un buon politico, un amministratore valido, io credo che un sindaco autorevole, come diceva il consigliere Paratore, di fronte al fallimento dovrebbe prendere consapevolezza, consapevolezza del fatto che il fallimento può rappresentare anche una spinta per il cambiamento. Un'opportunità, esatto consigliere Donato, il fallimento come consapevolezza e quindi spinta al cambiamento. Io mi permetto in maniera assolutamente tranquilla però di sottolineare oggi quanto avevo già detto, se mi scusate, dalla data in cui sono stato eletto presidente. Io ritengo che l'errore politico più grosso commesso da questo sindaco, da questa amministrazione, e intendo tutti, te compresa Valentina, è stato il non saper leggere il dato elettorale. Noi ci riempiamo la bocca con lealtà, come il bene del Paese. Leggere il dato che è venuto fuori dalle urne sarebbe stata, secondo me, una necessità prioritaria per il Paese, per la comunità, per la cittadinanza. Riconoscere, cioè, che in questo Paese c'è un'opinione pubblica e un elettorato diviso a metà e che né noi né voi potrete pensare di governare da soli. Questo che cosa doveva comportare? Se doveva comportare all'inizio della legislatura la consapevolezza della situazione e affrontare la situazione con estrema trasparenza, qui in quest'Aula davanti a tutti, mettendoci tutti, voglio dire, di fronte a noi stessi, responsabilizzando noi stessi, di fronte alle cose da fare. Vedi Valentina, oggi emerge che tu avevi un atteggiamento rispetto alle cose da fare ben diverso da quello che noi viviamo tutti i giorni con l'amministrazione genovese. Te ne sei resa conto dopo un anno e mezzo. Noi lo abbiamo segnalato da sempre, dalla campagna elettorale. Probabilmente se questa situazione si fosse affrontata qui tutti insieme, diciamo in maniera trasparente nei confronti della cittadinanza, la comunità falconese avrebbe fatto uno scatto che forse gli altri ci avrebbero invidiato. Io credo che oggi Falcone però invece non sia invidiato. Io penso che oggi Falcone, il comune di Falcone, l'amministrazione di Falcone sia lo zimbello dell'intera provincia. Io per il lavoro che faccio vedo tante persone di fuori paese che mi dicono di assistere a questi consigli comunali, ma più per teatrino e sceneggiata che per apprezzamento nei confronti dell'amministrazione di quello che si discute in quest'aula. E mi pare che stasera se ne sia data un'ulteriore prova. Credo però che, appunto per quell'aspetto che sottolineavo, che anche da una situazione negativa come questa ci possa essere una spinta al cambiamento. Intanto che dovrebbe essere un cambiamento interiore, Valentina. Cioè rendersi conto che probabilmente se cominciamo a misurarci con le cose pratiche, con le cose da fare, magari avremo la possibilità di incontrarci e di trovarci su molte più cose di quanto immaginiamo. E questo, ripeto, può essere fatto secondo me solo in maniera del tutto trasparente qui davanti a tutti. Si parla, ti ripeto, è stato sottolineato, di lealtà. Oggi ti vengono rivolte delle accuse che francamente io, guardate, nemmeno le voglio considerare, ma non perché io debba essere il tuo avvocato difensore, ma perché il sindaco ha sottolineato la vicenda dei dipendenti comunali. Ricorderete tutti che noi ti abbiamo attaccato su quella vicenda, no? Ricorderete tutti che noi eravamo in una posizione di estremo disappunto politico rispetto al piglio con cui tu hai affrontato la vicenda, diciamo, la situazione dei dipendenti comunali. Però credo che noi le cose ce le siamo dette in faccia, Valentina. È giusto? La mancanza di lealtà, allora dove sta? La mancanza di lealtà sta proprio nell'atteggiamento del sindaco che allora si presentò in quest'aula a difendere una posizione che evidentemente oggi ci dice che non era la sua, perché oggi ci dice che era in profondo imbarazzo, ma allora io dico la lealtà non nei confronti di Valentino, nei confronti dei consiglieri, ma la lealtà nei confronti dei dipendenti comunali che magari quella volta meritavano di essere difesi, non perché li stava difendendo insieme possiamo che sono i tuoi avversari politici, ma perché meritavano di essere difesi, perché meritavano che si prendesse una posizione politica. La lealtà è anche questo, insomma, non si può utilizzare la lealtà a secondo delle convenienze, a secondo delle frasi dette o non dette. Parliamo di politica, voglio dire. Se Valentina quel giorno sbagliava verso i dipendenti, noi li abbiamo difesi. Tu, ci state dicendo, ci riconoscete che non prendete delle posizioni seppure legittime e doverose, solo e soltanto per non sembrare che sostenete una posizione legittima dei vostri avversari politici. E parlate di lealtà, parlate di correttezza. Io penso di no, insomma, io penso che non sia questo. Io penso che il problema, e qui la chiudo, il problema è che stranamente Falcone, pur essendo un paese che ha una forte tradizione marinara, pur essendo un paese di pescatori, Falcone è l'unico paese in cui upisce non fede, ma da testa, ma fede da cute, evidentemente. Oggi apprendiamo che il problema di questa amministrazione si chiama Valentina Certo, sicuramente ci metto la firma, tra non molto scopriremo che le responsabilità saranno sempre di qualcun altro. Io pongo solo una domanda al sindaco, ma veramente vogliamo andare avanti così altri tre anni? Veramente non c'è la capacità, come diceva la consigliera Calà, di assumerci le nostre responsabilità pubblicamente. E io ne faccio una questione proprio politica, e lo voglio ribadire perché a questo punto diventa una posizione politica di tutti insieme possiamo. Il gruppo Insieme Possiamo chiede formalmente le dimissioni del sindaco di Falcone per mettere un'intera comunità al riparo dalla sfiducia che ci potrebbe essere a ottobre. Quindi non perdiamo altro tempo, visto e considerato che è chiaramente un'amministrazione fallimentare. Se veramente vogliamo bene a questo paese, dimettiti. Insieme Possiamo te lo chiede ufficialmente. No, io non sono al di sopra delle parti, consigliere Campagna. No, non l'ho mai detto di essere al di sopra delle parti, consigliere Campagna. Lei è confuso. No, io non l'ho mai detto, lo ribadisco, glielo metto anche a verbale, che non sono al di sopra delle parti. Io sono parte e sono assolutamente determinato ad essere partigiano in una situazione come questa. Sì, è orgogliosamente partigiano. Grazie. Grazie. Grazie.